Ciao, nel video di oggi farò un approfondimento sul concetto di inchiodatura. Cos'è l'inchiodatura nel gergo degli scacchi? Nel gergo degli scacchi l'inchiodatura è quando un pezzo inchioda un altro pezzo dell'avversario a muoversi, quindi rende impossibile la mossa del suo avversario, o perché dietro al pezzo mosso c'è il re, quindi non è possibile spostarlo, oppure per questione di convenienza perché dietro al pezzo che si muove c'è un pezzo di maggior valore che potrebbe essere perso. Nel video di oggi partirò quindi a far vedere come sfruttare in ambito di calcolo tattico la presenza dell'inchiodatura partendo dall'esempio rappresentato sulla scacchiera. La mossa è al nero, il nero si trova in forte svantaggio di materiale in quanto ha due pezzi leggeri contro donna e torre e anche un pedone in meno e a questo punto è chiaro che per far fronte nel breve periodo a questa insufficienza materiale bisogna capire se nella posizione ci sono elementi di calcolo tattico che portano al matto o al guadagno di materiale. Come prima cosa da osservare la posizione c'è una presenza di scacco quindi che è un elemento che attiva il calcolo tattico, quindi ricordiamo che il calcolo tattico è attivato da mosse di scacco, mosse di cattura oppure mosse di minaccia, in quel caso qua quindi è ragionevole da parte del nero pensare a torre a 8 scacco, tra l'altro rende unica la possibilità del bianco che deve giocare re b1 e a questo punto si realizza sulla scacchiera un'inchiodatura del pedone c2 in quanto che è inchiodato dall'alfiere g6 sul re quindi a questo punto dopo torre scacco re b1 il pedone è inchiodato questo elemento è importante perché può essere sfruttato dal dal nero che sfruttando l'inchiodatura potrebbe giocare cavallo b3 con la quale minaccia torre a 1 matto e con un breve calcolo si può vedere che dopo scacco re b1 cavallo b3 in questa posizione qua dopo due mosse se le immaginiamo non c'è possibilità da parte del bianco di far fronte alla mossa di matto torre a 1 matto proprio perché in questa combinazione svolge un ruolo fondamentale l'inchiodatura che l'alfiere g6 opera sul pedone c2 vediamo a questo punto le mosse quindi le mosse sono torre scacco le mosse immaginate re b1 unica cavallo b3 cavallo non può essere preso al pedone perché è inchiodato la minaccia torre a 1 matto e il bianco non riesce a far niente perché se per esempio gioca e4 segue torre a 1 matto vediamo un altro esempio a questo punto che spiega anche il perché sopra di me c'è capa blanca perché capa gamba è stato l'ispiratore di questo video con due posizioni tratte da due sue partite la prima della quale questa in cui in cui lui è il bianco lui il bianco è una posizione anche qua la mossa è al nero il nero ha giocato donna c5 il qua bisogna trovare la miglior mossa da parte del bianco che ha trovato capa blanca durante la partita giocato giocata nel 1927 contro Raul Sousa Campos anche qua siamo in presenza di un vantaggio di materiale a parte del nero che la torna per un pezzo leggero i pedoni sono pari e anche qua c'è l'innesco del calcolo tattico perché chiaramente alla lunga il bianco perderebbe se non riuscisse a innescare un calcolo tattico in grado di fargli badagnare materiale o condurlo al matto meglio ancora qua si vede immediatamente che c'è lo scacco che forza re g8 e a questo punto dopo scacco re g8 entra in gioco l'inchiodatura non ancora attiva ma potenziale dell'alfiere sulla torre quindi se il cavallo di 5 non ci fosse ci sarebbe un'inchiodatura devastante e a questo punto la combinazione è un po' più difficile di quella di prima però è lecito pensare immaginare a una mossa del tipo cavallo mangia con quella quale si dà scacco si approfitta dell'inchiodatura la torre che non può mangiare a questo punto sullo scacco possono succedere due cose quindi è una mossa di scacco cavallo f6 che va considerata e da adito a due scenari uno il pedone prende il cavallo e a questo punto sfruttando l'inchiodatura si può pensare al fiere mangia pedone con l'idea torre h8 matto e questa qua è una variante basata su tutta sull'inchiodatura che esercita l'alfiere c4 sulla torre quindi dopo al fiere mangia pedone la minaccia torre h8 è imparabile a questo punto bisogna analizzare il secondo ramo della variante che è cavallo scacco re a questo punto si muove l'unica possibilità aveva due possibilità un pedone mangia ora si muove quindi vediamo cosa succede dopo re f8 e a questo punto c'è un seguito che prevede torre h8 scacco a questo punto segue unica re e7 e a questo punto c'è ancora una mossa abbastanza difficile da immaginare perché la pulita delle mosse sono un po tante che visto che il cavallo in f6 controlla e8 ed i7 e la torre in d8 è chiamata a fronteggiare le due minacce si potrebbe deviarla con torre f8 scacco a questo punto l'unica se lo sarebbe matto è torre mangia a questo punto la torre è stata deviata e la torre in d1 può mangiare in d7 a questo punto re f8 unica e torre mangia torre scacco matto quindi dovete immaginare cavallo in f6 torre in f7 e re in f8 è un po lunghetta però con pazienza dovreste fare uno sforzo per immaginare la posizione che adesso per premio vi faccio vedere quindi la mossa giusta giocata da capa blanca è stata torre scacco cavallo mangia con le duque due seguiti diciamo il primo pedone prende basato sull'inchiodatura alfiere prende la minaccia torre h8 è imparabile diciamo quella che offre più resistenza e sacrificio di donna ma anche qua torre h8 è imparabile l'altro seguito dopo cavallo per f6 che si è realizzato in partita è stato re f8 con il seguito scacco re via torre e 8 per deviare la torre d8 dalla difesa del pedone d7 torre d7 re f8 scacco matto quindi in questi due esempi primi due esempi abbiamo visto come l'inchiodatura svolga un ruolo in un ambito di calcolo combinatorio perché offre delle chance e delle limitazioni a chi è inchiodato quindi offre delle chance a chi deve cercare di trovare la combinazione vincente e limita fortemente le possibilità di chi si difende vediamo adesso un altro ruolo dell'inchiodatura che anche qua mi ha aspirato la seguente posizione che si è verificata dopo g6 del nero nella partita giocata nel 1913 sempre da capa blanca col bianco contro teichman e in questa posizione qua la posizione è pari c'è un evidente vantaggio posizionale da parte del bianco perché il pedone d5 isolato è oscuro all'alfiere in b7 quindi c'è un cavallo d4 molto forte che limita l'alfiere e in più il pedone d5 isolato però l'elemento che caratterizza la posizione e che dà un forte vantaggio dalla parte del bianco è rappresentato dall'inchiodatura del cavallo f6 e a questo punto come capa blanca ha sfruttato questo questo elemento che è fondamentale nella posizione e lui l'ha sfruttato giocando la mossa f3 però f3 che sembra una mossa insignificante ha dietro un pensiero molto profondo legato alla strategia e quindi capa blanca aveva formalizzato nel suo cervello il piano che prevedeva di sfruttare l'inchiodatura del cavallo e come prevedeva di sfruttarlo aveva immaginato di mettere il re in e5 quindi aveva immaginato capa blanca che un'opportunità che offriva la posizione però a lungo termine era fare f3 per cercare di andare in e5 con il re a questo punto quando il re è in e5 il cavallo è perso a questo punto quindi dietro a f3 c'è questo significato vediamo adesso come avrebbe potuto condurre la partita come potrebbe essere andata la partita nel caso il nero si limita a tenere ferma la posizione e quindi giocare mosse d'attesa tipo alfiere a8, alfiere b7 a questo punto il seguito che potrebbe seguire potrebbe essere f2 g4 ha un contenuto di migliorare ulteriormente la posizione per guadagnare più spazio con lo stesso significato potrebbe avere h4 e a questo punto il re procede e una volta che il re arriva in e5 il cavallo è perso la partita è persa quindi questo è il contenuto strategico che sta dietro alla mossa f3 a questo punto uno potrebbe pensare che il nero potrebbe attivarsi in modo migliore per cercare di contrastare questo semplice piano di capa blanca che quindi di andare in e5 e potrebbe cercare di porsi come obiettivo da un lato di togliere l'inchiodatura con torre h8 però torre h8 ha l'inconveniente che è vero che minaccia h6 alfiere via e non c'è più l'inchiodatura ma offrirebbe un ulteriore elemento di strategia che supporta il vantaggio del bianco che è torre c1 a questo punto la torre andando via perde il controllo della colonna c e a questo punto il vantaggio strategico che era legato all'inchiodatura si trasforma in vantaggio strategico legato alla colonna che ha un peso più rilevante a questo punto il nero deve giocare torre c8 e dopo il cambio di torre segue il piano di prima e anche qua non ci si può fare niente contro il piano re e5 e vittoria da parte del bianco legata all'inchiodatura quindi vediamo un ulteriore tentativo che potrebbe scugitare il nero per cercare di far fronte a quel semplice piano qua di andare con il re e5 potrebbe essere quello di cercare di andare con la torre in qualche modo in b6 per difendere il cavallo e liberare dall'inchiodatura il cavallo quindi giocare prima alfiere c8 cioè torre c7 alfiere c8 torre b7 torre b6 e quel piano qua anche lui fallisce perché sottrae quindi con l'idea di andare a difendersi con la torre il cavallo non può impedire la torre di entrare in settima dando l'inchiodatura anche dell'alfiere e questo potrebbe essere un seguito plausibile della posizione in cui anche qua l'inchiodatura che era stata l'elemento strategico predominante nella fase iniziale si trasforma in una posizione di vantaggio di spazio da parte del bianco e di una superiorità del cavallo rispetto all'alfiere che potrebbe portare come in questa variante al guadagno del pedone di 5 quindi a questo punto tutte queste pensieri queste mosse erano nella testa di Capablanca quando ha giocato f3 e a questo punto il suo avversario vista l'impossibilità di far fronte a tutte queste piani strategici ha giocato h6 sacrificando il pedone proprio perché l'elemento inchiodatura era talmente diciamo pesante da sopportare per la posizione che il nero ha pensato che era più opportuno sacrificare un pedone rispetto a avere l'ingombrante peso dell'inchiodatura da sopportare quindi l'elemento inchiodatura ha diciamo condotto indirizzato la strategia a lungo termiche in quel caso qua del bianco vediamo adesso un ulteriore esempio sulla falsa riga di questo in cui è un elemento di strategia di gioco la presenza dell'inchiodatura nella posizione che si è realizzata nella partita tra i giri bianco e Rodstein nero giocata nel 2012 è una posizione in cui il nero ha un pedone di vantaggio dal punto di vista materiale ha un pedone in più però anche qua c'è la presenza dell'inchiodatura del cavallo quindi il cavallo è inchiodato e questo elemento ha talmente peso ha talmente rilevanza nella posizione che fa sì che la posizione sia una posizione di grande vantaggio da parte del bianco pur avendo un pedone in meno ed è una posizione di grande vantaggio ed è centrata la strategia con cui Giri porta termine a partita e la strategia che segue Giri è estremamente interessante perché dopo torre c5 che la mossa il nero via la torre minacciata si sposta difende il pedone e la strategia che attua Giri è quella legata all'inchiodatura è quella di spingere il pedone in A4 quindi e minacciare il pedone B5 quindi andare in parità di materiale con l'inchiodatura e guadagnare un pedone quindi perché se il pedone mangia Giri giocherà torre mangia quindi non si limita a cambiare il pedone ma mangerà la torre il pedone mangerà la torre quindi a questo punto Giri avrà due pedoni in meno ma la presenza dell'inchiodatura fa sì che il cavallo verrà perso perché il bianco potrà giocare F4 impedire quindi G5 RG6 e su H6 giocare H4 e se il pedone spinge potrebbe seguire la mossa pedone mangia pedone mangia e H5 con perdita del cavallo quindi l'elemento di inchiodatura indirizza la strategia di gioco del bianco Giri che può che quindi ha giocato A4 e dopo la mossa pedone prende torre prende pedone prende l'inchiodatura ha una rilievanza determinante ha giocato F4 A3 chiaramente alfiere A1 e a questo punto il nero abbandonato perché non può far nulla se non giocare Re F8 alfiere per cavallo perché a questo punto facilmente su H6 seguirebbe H4 e dopo seguirebbe il piano da parte del bianco di andare col Re in E7 e il cavallo verrebbe perso a questo punto quindi dopo F4 probabilmente la migliore è perderlo subito e giocare l'F8 ma dopo alfiere per cavallo il vantaggio di materiale da parte del bianco è notevole quindi la posizione è vinta quindi con oggi abbiamo visto come l'inchiodatura è un elemento che viene attivato nel calcolo combinatorio ma può essere un fine strategico o un elemento strategico che consente di indirizzare la partita verso un vantaggio che si potrà trasformare in guadagno di materiale con oggi è tutto spero che sia stato tutto chiaro ringraziamo Capavlanca per l'ispirazione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao